Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Al sud insisteranno condizioni di maltempo, in particolar modo sulle aree ioniche di Puglia e Basilicata. Il vortice di bassa pressione si allontanerà pian piano sulla Grecia, permettendo un miglioramento delle condizioni meteo a partire dal nord. Qui i valori di pressione più alti garantiranno una giornata più soleggiata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per il mercato di 8 marzo, festa della donna. Al mattino precipitazioni diffuse tra Basilicata Ionica, Tarantino e Salento. Altrove cieli poco nuvolosi o nuvolosi. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità tra Foggiano e Lucania, con piogge debole o moderate intensità, sulle medesime aree con estensione anche nel Barese e nel Materano. In serata condizioni meteo in miglioramento con cieli sereni a partire dal nord delle regioni. Temperature massime stazionarie e in calo invece le minime. Attenzione ai forti venti dei quadranti settentronali su tutti i settori. Calo dell'intensità in serata. Molto mossolo adriatico e il canale d'Otranto mossolo ionio. Ed ora ecco la foto del giorno. Oggi ricordiamo la giornata internazionale della donna, con questo omaggio per tutte le nostre telespettatrici, alle quali lo staff di Meteo One e Leappula rinnovano i più sinceri auguri. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One o Leappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.